La Camera Penale di Locri ha organizzato con il patrocinio dell'Ordine Avvocati di Locri e del Comune un convegno dal titolo Le intercettazioni tra esigenze di indagine, diritto di cronache e tutela costituzionale delle libertà fondamentali. L'incontro si è svolto ieri presso il Palazzo della Cultura di Locri, dove si è parlato di intercettazione e legalità, ma anche dello stato delle pratiche per velocizzare possibili proposte in materia. Su questo tema la Camera Penale ha chiamato a partecipare al confronto avvocati, giornalisti, senatori, tutte notevoli autorità che con entusiasmo hanno deciso di partecipare all'iniziativa. Sentiamo in materia di intercettazione il senatore Buemi, componente Commissione Giustizia. Come sempre accade, quando la regolamentazione magari non è adeguata e c'è un abuso, l'abuso colpisce di volta in volta diversi diritti e quindi il legislatore si deve ilporre del problema della tutela di questi diritti. Il diritto ovviamente per l'autorità giudiziaria è poter svolgere efficacemente l'azione di contrasto alle organizzazioni criminali di vario tipo, le azioni criminali di vario tipo e quindi le intercettazioni è uno strumento fondamentale, in particolare nell'era delle tecnologie. Poi c'è il diritto di cronaca che deve essere garantito per gli organi di informazione, i giornalisti che fanno inchieste, che fanno produzione di comunicazione e di informazione ai cittadini e c'è il diritto del cittadino che è coinvolto indirettamente dentro una vicenda giudiziaria e di intercettazione che se non è parte attiva dentro il procedimento penale per qualche ragione non deve essere coinvolto su materie private che non hanno nessuna attinenza. Ora il compito difficile di fronte agli abusi di questo periodo storico è quello di trovare una contemperazione tra questi tre diritti. Ascoltiamo adesso Mario Mazza, preside della Camera Penale di Locri. Quanto è importante secondo lei nella società moderna fare intercettazione? Ma intanto nella società moderna è importante riconoscere la legalità e il diritto del cittadino che diventa prioritario rispetto a qualsiasi altra forma di coartamento di quelle che sono le libertà individuali che vengono sancite anche costituzionalmente. Il legislatore ha cercato di fare una serie di normative che possono essere finalizzate a quelle che possono rappresentare la necessità di tutelare le esigenze di indagine, ma nello stesso tempo anche la tutela dei diritti del cittadino e la tutela anche del diritto alla stampa di poter dare adeguate informazioni. Chiaramente nella prassi quotidiana purtroppo dobbiamo dire che ciò non avviene, anche perché noi assistiamo spesso e volentieri che vengono pubblicate notizie anche su persone che non sono di interesse operativo nelle indagini. Vengono divulgate tempestivamente anche stralci di alcune intercettazioni che non sono nemmeno di interesse operativo per la ricerca della prova e della storicità di quello che può essere l'ipotesi delettuosa contestata all'individuo. Quindi noi abbiamo la necessità di compendiare più esigenze, alcune garantite costituzionalmente, altre che sono finalizzate alla ricerca di quelle che possono essere le responsabilità penali. Però è giusto che ci sia da parte dello Stato un'applicazione rigida delle regole in modo tale che sostanzialmente non vengono coinvolte persone intanto che siano estranei e fatti reato, intanto che non vengono divulgate notizie da parte di chi è preposto invece alla riservatezza, perché il nostro codice prevede pure che gli organi di polizia giudiziaria, la magistratura inquirente non possa trasmettere notizie che fanno parte del segreto istruttorio. E ancora il deputato Roberto Chiuto. La mia personale idea è che lo strumento investigativo delle intercettazioni è uno strumento che non debba essere sottratto alla magistratura. Trovo risibili anche le contestazioni di quelli che affermano che costerebbero tantissimo, perché costa molto di più la corruzione che spesso, grazie agli strumenti investigativi, viene debellata. Il problema è l'utilizzo inappropriato di queste intercettazioni, che spesso finiscono sui giornali, anche quando non hanno alcun rilevo penale, anche quando non sono di alcuna utilità per i processi, solo per alimentare il gossip o per far vendere qualche copia in più. Questo non deve essere consentito, perché una cosa è il diritto di cronaca che va garantito, altra cosa però è la tutela, la riservatezza delle comunicazioni, che è garantita dalla Costituzione, così come il diritto di cronaca. E infine il procuratore Lombardo. L'intercettazione è un mezzo di prova del quale non si può fare a meno. Non si può fare a meno in una serie di delitti grave, ma soprattutto non si può fare a meno in materia di criminalità organizzata e di traffico di stupefacenti. Lei pensi ai delitti gravi che la Procura Estetuale di Catanzaro ha scoperto in questi anni. Lei pensi al triplice omicidio, compreso il bambino Cocò e Giannicelle. Lei pensi ad una serie di altri delitti che sono stati commessi a Vibbo e nel Soveratese. Noi riusciamo ad interpretare le acquisizioni di Polizia Giudiziaria grazie agli elementi intercettivi. Senza le capitazioni noi non riusciamo oggi ad aggiungere la conclusione in una serie di delitti. Le intercettazioni spesso confermano le ipotesi della Polizia Giudiziaria, sia quelle fatte prima della misura cautelare, sia, ancora e qualche volta meglio, quelle fatte dopo la misura cautelare nelle varie celle carcerarie. Diciamo che gli autori dei delitti alla fine non possono fare a meno di parlare di queste cose, sia con i familiari, sia tra di loro. Alcune volte hanno bisogno anche di far capire all'esterno che gli autori di un dato delitto, quando soprattutto questo è eclatante, è stato commesso da loro, in modo che gli altri abbiano timore di loro.